La ricostruzione dell'Aquila e Cratere potrà andare avanti senza intoppi grazie alla decisione recente del Consiglio dei Ministri di prorogare la firma dei titolari degli uffici speciali, Ustra e OSRC. Un provvedimento molto importante atteso, considerando che sono gli unici ad avere questo potere di firma che non bloccherà un processo virtuoso. È un segnale positivo innanzitutto per dare la continuità necessaria a un'azione, quella della ricostruzione e anche dello sviluppo che è in atto, perché ci sono tante attività che riguardano lo sviluppo dei territori che in questo modo non avranno una brusca interruzione e questo è una delle cose più importanti per continuare il percorso che stiamo attuando già da diverso tempo e che vede un'ampia compagine sempre più compatta realizzare tanti tanti interventi di cui oggi abbiamo un importante esempio. Un provvedimento che è molto importante anche dal punto di vista delle norme per la semplificazione stabilite nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Appunto, che consentiranno di velocizzare l'iter negli appalti come accade per gli interventi del PNRR. Prevalentemente i nostri comuni perché per quanto riguarda i 56 comuni del cratere, 56 comuni minori, abbiamo 230 interventi per un ammontare di 120 milioni di euro circa che hanno raggiunto la milestone, per quanto questa milestone di fine anno è stata prorogata, ma sono a buon punto per l'attuazione e queste procedure semplificate significa attuarle in 230 interventi. Quindi è un'azione molto vasta territorialmente parlando che dovrà avere il suo sviluppo proprio in quest'anno in corso. Ecco perché la continuità nella proroga consente anche di, dato che noi titolari degli uffici speciali, coordiniamo poi gli interventi, il monitoraggio e siamo anche titolari di alcuni interventi in particolare, quello dei cammini per esempio, sono interventi che attuiamo direttamente come uffici speciali, sia io che l'ingegnere Provenzano. Siamo soddisfatti ma sicuramente si può ancora migliorare, è un bilancio che a ogni fine d'anno si fa e noi siamo oltre la metà del cammino, quindi la soddisfazione di aver intrapreso la fase discendente, di conclusione perché vediamo finalmente la fine, ma si può semplificare, si può migliorare e stiamo provando questo mese ad attuare delle misure di accelerazione che passano anche per l'avallo da parte delle amministrazioni che verificano i conti e verificano la nostra parte giuridica, per cui personalmente come ufficio speciale ricostruzione cratere siamo in una condizione in cui avendo acquisito quasi tutte le prati per la ricostruzione proviamo ora a fare un grande salto nella semplificazione delle procedure per approvare in tempi più rapidi le richieste di contributo. Sono confidente che questa operazione avverrà nei prossimi mesi.